Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Barbara Passeri. Di dove sei? Di Genga. Cosa hai fatto nella vita finora? Ho studiato all'Istituto Professionale di Moda e poi mi sono laureata da poco all'Accademia di Belle Arti di Macerata, indirizzo a Fashion Design. E poi adesso che cosa fai? Continui a studiare, lavori? Sto continuando appunto con la specialistica all'Accademia di Belle Arti di Macerata, sempre Fashion Design. Ti vedo un po' circondati di tanti vestiti, cosa rappresentano? La mia passione, la mia passione più grande. Ovvero? Ovvero la realizzazione dei capi, oltre che la progettazione, ma anche la realizzazione dei capi con materiali stravolanti e inusuali. Ecco perché c'è un materiale veramente speciale. Questo materiale come l'hai fatto? L'ho realizzato intrecciando materiali inconsuete e inusuali, servendomi appunto di una gomma di PVC spalmato e adoperando dei tubolari sulla quale ho intrecciato queste materie. Praticamente hai rinventato la tessitura? Sì, la tessitura è la tecnica più antica al mondo. E poi dopo che cosa è successo con questo materiale? E in seguito a numerose sperimentazioni ho deciso appunto di realizzare dei capi con questo materiale, appunto rendendo e dandogli una vita, una vita propria. E adesso dove vai? Adesso il 13, il 14 e il 15 ottobre andrò alla Fiera Internazionale di Moda Accessori, Crea Moda Expo, dove appunto interverrò facendo una performance al vivo, facendo vedere appunto i miei lavori, disponibilitezza.